La cosa che mi importava di più è quella di dare verità al personaggio e di creare una connessione con Aldo e quindi di restituire i sentimenti veri e fare in modo che il pubblico si emozionasse. Ho potuto fare questo anche grazie all'aiuto di Alessandro Aper che per me è un onore aver lavorato con un grande attore come lui, mi ha dato tanto. Penso che oltre ad essere un attore sia un artista a 360 gradi, quindi è stato veramente un viaggio emozionante. E anche grazie alla sceneggiatura solida, il personaggio che era ben descritto già in sceneggiatura, quindi ho avuto materiale su cui costruire il mio personaggio e grazie ad Alessandro Capitani che ci ha diretti con la sua sensibilità e con l'amore che ha presso questo lavoro. Volevo menzionare Isabella Ferrari perché è stata una grande attrice ed è stata un po' la mia mamma. Mi ha dato dei consigli e anche se avevamo poche scene insieme è stato veramente un incontro bellissimo.